Solo qualche settimana fa vi abbiamo segnalato lo stato di degrado nelle palazzine qui in via Prabello a Favaro Veneto. Questa mattina è caduto proprio lì un pezzo di cornicione. Sotto c'era una ragazzina di 17 anni che stava passeggiando con il cane. Mi ha chiamato dalla finestra, mi ha detto mamma mamma questo muro mi ha schivato e aveva un pezzo di muro in mano abbastanza grande che adesso era lì e ne ha preso i pompieri. Io non so se la prendevo in testa cosa che facevo perché è una situazione un poco sgradevole a dir poco. In questo caso è andata bene ma i residenti del discusso condominio Ater di via Prabello 21 sono sempre più preoccupati per lo stato di degrado in cui versa la costruzione con continue infiltrazioni d'acqua anche consistenti all'interno di molti appartamenti. Sono 30 anni 40 anni che va avanti così. Il tetto è senza guarina. Quando piove come ha piovuto ieri a dirotto l'acqua entra nel cemento e va dentro agli appartamenti. Gli appartamenti del terzo piano sono tutti pieni di infiltrazioni d'acqua. Dovevano venire a fare i lavori ancora a maggio dell'anno scorso prima che mi dassero la casa a me qua al Civeco 21 e non sono mai venuti. Sì veniamo, sì veniamo e non sono mai venuti nessuno. Quando un inquilino chiama Ater perché ha un problema dentro all'appartamento o fuori anche gli rispondono eh ma non sappiamo cosa fare e ci chiami, prendo appuntamento. Non è così che si fa, non è così che si fa. Non possiamo aspettare che una bambina o un adulto muoia sotto a un sasso che cade dal tetto. Non possiamo aspettare così. A me in camera piove a dirotto, li ho chiamati, mi hanno messo un fiadico sase, il silicone, ma piove lo stesso. Quando piove ti metto una bacinella sotto perché a me piove proprio in camera. Non è possibile perché l'affitto lo paghiamo e paghiamo anche bei soldi. Se viene in casa mia, se viene in camera mia, c'è paura perché si è piena di muffa. Un episodio che arriva dopo le numerose polemiche per l'aumento degli affitti. Quello che scoccia è pagare tanto di affitto, dove che infine i lavori di manutenzione non vengono mai a farli. Noi siamo 40 anni quasi che abitiamo in queste case, i lavori di manutenzione né ordinaria né straordinaria non sono mai venuti. Vengono a tappare buchi, fra virgolette. Hanno aumentato gli affitti. Gli 42 inquilini che ci sono su questi appartamenti hanno sì protestato in senso vocalmente che hanno aumentato gli affitti e sono un po' alti. Però li stanno pagando anche se li hanno aumentati. Però visto che hanno aumentato gli affitti dovrebbero fare anche i lavori.